Buongiorno Basta ripresa la chimica che ci dà Manca un'ora volta Ad un loro motoletro Come il tuo mitrappola Anche se è pronto allo stato finale Non lo conosco negli ospironi Noi conosciamo la loro violenza Troppe ospironi tante Troppi ragazzi dentro le spalle Non lo voglio dire Ad un loro punto a messo La rivolta è sempre l'uomo Non aspettano semplicerati Oggi un deciso Sarò io Ad un loro punto a messo Sarò scarto e dire atteso Sarò un loro consiglio Sì Vedo Vivo L'argomento Grazie.